Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito al mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Anche questo video me l'avete chiesto sul Google Docs, ma ricordo di aver ricevuto anche una richiesta da una ragazza che mi segue da davvero tanto tempo. Ecco perché oggi sono qui per parlarvi del caso di Elisa Pomarelli. Elisa ha 28 anni e vive nel quartiere di Borgo Trebbia, in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, con i suoi genitori Maurizio e Maria Cristina. È la seconda di tre figlie, le sue sorelle di nome Fanno Francesca e Deborah. Elisa lavora nell'ambito dei servizi finanziari, con suo padre che fa l'assicuratore. La ragazza però ama anche stare all'aria aperta, è una persona molto abitudinaria. Non è solita uscire la sera a far serata, insomma non è una di quelle ragazze che va in discoteca e rimane in pista fino alla chiusura. Anzi, tutt'altro. Se Elisa esce, va nei campi, cerca di allontanarsi dal superfluo. A lei piace la vita di campagna. Le piace anche stare lontana da tutti. Insomma, preferisce passare il suo tempo libero in mezzo alla natura. Anche perché Elisa in settimana va sempre a Piacenza con suo padre. Lui, come già vi ho detto, è un assicuratore ed Elisa lavora con lui nella sua agenzia assicurativa. La ragazza è una mediatrice finanziaria, quindi è costretta, volente o nolente, a stare a contatto con diverse persone. Di conseguenza le sue uscite all'aria aperta equivalgono ad un modo per staccare la spina e distrarsi. La ragazza è legatissima ai suoi genitori, ha un ottimo rapporto con loro ed è solita raccontare loro tutti i suoi problemi. Ma soprattutto è solita avvisargli sempre dei suoi spostamenti. Un giorno nell'agenzia assicurativa entra un uomo di nome Massimo Sebastiani. Di professione fa il tornitore e da 45 anni. Così parla con Elisa e i due diventano immediatamente amici. Un'amica della giovane dice che i due inizialmente si sono avvicinati in seguito alla perdita di un'amica di cui Elisa era innamorata senza essere ricambiata. In realtà, a quanto pare, la ragione principale per cui Elisa lega molto con Massimo è perché è molto bravo con i campi e con l'agricoltura. Elisa si fida di Massimo, ma non è innamorata di lui. Il loro è solo un rapporto di amicizia e collaborazione per un'eventuale attività agricola insieme. Però, in effetti, dopo un po' di tempo Elisa inizia a lamentarsi con sua sorella. Perché in Massimo inizia a farsi strada un atteggiamento a dir poco ossessivo nei suoi confronti. Arriva a mandarle messaggi in cui le dice che è innamorato di lei. Il punto è che, a quanto pare, questa situazione è già stata chiarita da tempo. Inoltre Massimo diventa una persona di famiglia, frequenta la casa di Elisa, conosce i suoi genitori e soprattutto trova uno sfogo attraverso sua sorella Deborah. Massimo si confida anche con lei, le dice di essere innamorato di sua sorella Elisa. Deborah però ogni volta prova a metterlo davanti alla realtà nuda e cruda. Elisa non avrebbe mai ricambiato il suo amore e non perché a Massimo manchi qualcosa, o perché sia un uomo brutto e cattivo, ma perché Elisa ha altre preferenze. Ad Elisa piacciono le donne e questo non può cambiare. Bisogna a questo punto mettere i puntini sulle i. E' vero, Elisa ha dato un solo bacio a Massimo. Il punto è che la ragazza è sicura dei suoi sentimenti. Sa che lei e Massimo non sarebbero mai potuti andare oltre, perché con lui fa coming out. Elisa però, scherzando un giorno, dice a Massimo che se mai le fosse accaduto di cambiare idea, avrebbe scelto lui come uomo. Ovviamente qui Elisa sta facendo una battuta a Massimo, battuta che Massimo non coglie. O forse ha fatto finta di non coglierla. Quindi l'uomo, andando contro tutti gli amici che gli consigliano di lasciar perdere, andando anche contro ogni illogica, decide di aspettarla. Tanto che parla a tutti di lei e ne parla alla gente del posto come se fosse la sua ragazza. Molti non gli credono. La verità però è che Massimo si è fatto un gran film in testa. E la trama l'ha creata lui dall'inizio alla fine. In ogni caso bisogna puntualizzare una cosa importante. Massimo ed Elisa si frequentano, si vedono come amici per tre anni, dal 2017 al 2019. Arriviamo a questo punto al 25 agosto del 2019. Massimo ed Elisa vanno a pranzo in una trattoria di Sariano di Gropparello, chiamata Il Lupo. Poi Elisa alle 13.35 manda un messaggio a sua sorella Francesca. Ossia, vuoi assaggiarle un po' delle nostre uova? Francesca risponde alle 14.03. Uh, sì, mi piacerebbe tanto. Se vuoi, passo stasera a prenderle. A questo punto di Elisa si perdono le tracce. Massimo e Sebastiani invece riappare. Sono le 14.47 quando si ferma a fare benzina e scambia due parole con il titolare. Gli dice, volevo fare un giro con la mia ragazza, ma lei non è voluta venire, quindi vado in campagna a lavorare. Massimo riparte e alle 15 arriva a casa del suo ex suocero, a costa di Sariano di Gropparello. L'uomo si chiama Silvio Perazzi e i due hanno ottimi rapporti. C'è però qualcosa di strano. Massimo si presenta lì senza maglietta. Inoltre rimane lì proprio per pochi minuti, insomma, il tempo di bere un bicchiere di vino. Ma sarà vero? Una vicina di casa testimonierà di aver visto la macchina di Massimo Sebastiani parcheggiata davanti alla casa di Silvio Perazzi fino alle 15.50. Dalle 15 alle 15.50 non ci passano di certo pochi minuti. È quasi un'ora. Alle 16 in punto Massimo si trova in un bar di celleri e le persone attorno a lui notano che ha i pantaloni bagnati. A questo punto ci sono tre ore di buco, tre ore in cui Massimo sparisce per poi riapparire in un bar verso le 19 dove consuma un aperitivo. Di una cosa siamo certi, nessuno nei vari bar né lungo il tragitto vede Elisa. I loro telefoni, peraltro, sono anche spenti. Alle 21 Massimo è a cena in un ristorante di Vigostano con una sua amica. Intanto però c'è un problema. Elisa è scomparsa, i suoi genitori hanno già sporto denuncia. Quindi, mentre gli inquirenti iniziano a cercare Elisa, Massimo saluta l'amica con cui ha cenato e continua a girovagare. Viene visto da un conoscente che però è all'oscuro di ciò che sta accadendo. Massimo cammina velocemente con uno zaino in spalla verso Sariano di Gropparello. E così sparisce, esattamente come Elisa. Lunedì 26 agosto 2019, sul profilo Facebook di Francesca, la sorella di Elisa, appare un appello. Fate girare! Ieri mattina mia sorella Pomarelli Elisa è scomparsa, ha lasciato la casa dei miei genitori verso mezzogiorno e non ha più fatto ritorno. È uscita con un uomo di Carpaneto Piacentino e il suo cellulare, l'ultima volta che ha agganciato il segnale, agganciava una cella di cadeo. Mia sorella non si sarebbe mai allontanata da casa propria, volontariamente. Sono quasi 24 ore che non si hanno notizie. Ovviamente abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri. Ogni indizio, novità o avvistamento è importantissimo. Se qualcuno dovesse sapere qualcosa, mi contatti privatamente o, nel caso, condividete il post il più possibile. Grazie. Questo post ottiene quasi 3.000 condivisioni. E qualche ora dopo, il giornale locale PiacenzaOnline.info riporta la notizia postando una foto di Elisa con i capelli lunghi. A 48 ore dalla scomparsa, i carabinieri danno ai giornalisti un'altra foto di Elisa. Questa volta con i capelli corti e altri dettagli utili al suo riconoscimento. Piacenza Sera riporta un virgolettato dei carabinieri. Elisa Pomarelli era vestita con una maglietta nera, con la scritta Armani e dei pantaloni beige. È alta 1,60 m. Se qualcuno l'avesse notata, è pregato di avvisare immediatamente il comando provinciale dei carabinieri di Piacenza. O la compagnia carabinieri di Fiorenzuola d'Arda. Il 28 agosto, un'amica di Elisa lancia un appello importante su Facebook, scrivendo Aggiornamento importante. Oggi le forze dell'ordine incaricate della ricerca di Elisa e Massimo hanno voluto parlare con noi amici e volontari. Ci è stato detto che l'unica cosa che possiamo fare, che sia veramente utile, è reperire informazioni certe su rifugi, cave, anfratti simili presenti nel territorio, in cui si sta spostando il campo base. Ossia nei pressi della sede della Proloco sul confine tra i comuni di Morfasso, Caragnone e Lugagnano. Fate girare affinché la comunicazione sia chiara a tutti i non addetti ai lavori. Grazie. Appello. Per cercare Elisa Pomarelli abbiamo pensato di formare una squadra di volontari civili, che possano battere le zone di Carpaneto, Sariano, Gropparello, Zena ed intorni parallelamente alle forze dell'ordine già coinvolte. Chiunque si senta di partecipare è ben accetto, in particolare cerchiamo gente che conosca bene le zone e possa guidarci, ad esempio scout, cacciatori, alpini, eccetera. Chiunque sia disponibile risponda a questo messaggio, o perlomeno condivida affinché lo veda più gente possibile. Importantissimo. Noi volontari civili ci muoveremo solo se coordinati dalle forze dell'ordine e se utili agli scopi della ricerca. Non è assolutamente nostra intenzione intralciare o rallentare le ricerche. Oltre a me potete contattare Diana, Francesca e Jessica. Intanto Massimo Sebastiani viene, descritto da chi lo conosce, come un uomo esperto del territorio, avvezzo a tagliare la legna e in grado di adattarsi ad ogni circostanza, sia al caldo che al freddo. L'uomo dunque si sta nascondendo? Ha fatto qualcosa ad Elisa? I dubbi iniziano ad emergere, specialmente dopo aver appreso l'ossessione che nutre verso la ragazza. Se si sta nascondendo, magari è in un capanno in mezzo ai boschi, dove peraltro le squadre di ricerca stanno effettuando delle perlustrazioni scrupolose. A distanza di quattro giorni dalla scomparsa sia di Elisa che di Massimo, il soccorso alpino con i carabinieri che coordinano le operazioni si aggiunge per setacciare le zone boschive più impervie. Anche perché si sta cercando una specie di bunker che l'uomo, stando ad alcuni conoscenti, stava costruendo nei boschi come suo personale rifugio e dove potrebbe essersi recato a seguito della separazione con la sua ex moglie. Intanto il 28 agosto viene posta sotto sequestro la sua casa in località Campogrande. Al momento non risultano ancora persone indagate, esiste solo un fascicolo contro i gnoti. A distanza di cinque giorni dalla scomparsa di Elisa e Massimo emerge in effetti che lui non era un uomo violento. Anzi, non ha mai alzato una mano contro nessuno. Devorah, la sorella di Elisa, dice Lui non è uno violento, non ha mai alzato una mano contro mia sorella, ma neppure la voce. Che io sappia non hanno mai litigato, anche perché non ce n'era motivo. Massimo la secondava sempre, era innamorato. Per mia sorella invece si trattava soltanto di una bella amicizia e nulla di più. Francesca, l'altra sorella di Elisa, dice Un'altra amica di Elisa, dice Per me erano fidanzati. Lei ha frequentato anche casa nostra. Come potevano essere solo amici? Ma poi, se a lei davvero non interessava, perché ci usciva? Il cugino di Massimo dice Beh, tre anni non sono pochi. Mi sa che il loro rapporto è entrato in un brutto vortice psicologico. Agli amici Massimo di Elisa diceva La voglio, la voglio, ma lei non ne vuole sapere e quindi siamo solamente amici. L'ossessione di Massimo per Elisa si esprimeva così, in un continuo parlare di lei, dell'oggetto del suo amore. La sua ragazza con cui trascorreva tutto il suo tempo libero. Questa situazione, tra l'altro, aveva isolato il 45enne dagli amici, che tutti schierati in un coro comune dicevano a Massimo Lasciala stare, lasciala perdere Un amico di Massimo dice Massimo mi chiamava spesso per sfogarsi e mi diceva che ero io uno dei pochi rimasti ancora disponibili ad ascoltarlo e quindi si confidava con me Mi parlava di questa ragazza di cui era innamorato pazzo, pur non essendo ricambiato Erano comunque amici, passavano parecchio tempo insieme e lui l'accompagnava tra i campi a bordo del trattore mentre svolgeva i suoi lavori Lui sperava che un domani lei cedesse al suo amore Il padre di Massimo, Dante Sebastiani, dice al quotidiano Libertà Ultimamente Massimo diceva che non si sentiva bene Gli abbiamo detto di lasciar perdere quella ragazza ma lui ha risposto che gli piaceva Dante Sebastiani fa anche un appello affinché il figlio torni a casa C'è da dire che gli sforzi sono tutti tesi alla ricerca dell'uomo L'ipotesi d'indagine attualmente, anche per consentire una serie di accertamenti tecnici per la procura è sequestro di persona Si teme infatti che Massimo, ossessionato da Elisa a detta di amici e parenti possa averle fatto del male ed ora potrebbe nascondersi nei boschi intorno a Carpaneto un territorio impervio che solo chi è avvezza quei luoghi come lo è Massimo Sebastiani può praticare A sei giorni dalla scomparsa di Massimo ed Elisa c'è la prima svolta nelle indagini Dopo giorni di incertezza la procura di Piacenza iscrive Massimo Sebastiani nel registro degli indagati per il reato di omicidio e occultamento di cadavere in merito alla scomparsa di Elisa Pomarelli La svolta potrebbe essere legata agli esiti delle analisi dei carabinieri del RIS di Parma sull'abitazione di Massimo Sebastiani a Campo Grande di Carpaneto sequestrata insieme alla sua macchina e al suo telefono L'abitazione dell'uomo è piena di rifiuti, gusci d'uovo, monetine Inoltre ci sono vestiti sparsi ovunque C'è da dire che di solito a ridurre la casa in quelle condizioni sono soggetti schizofrenici o comunque soggetti che non sono in grado di vadare a se stessi Eppure Massimo Sebastiani non risulta soffrire di alcun disturbo diagnosticato almeno secondo il suo avvocato L'uomo si limita a dire che nonostante Massimo sia una persona semplice e di origini modeste è un uomo intelligente e con una discreta resistenza fisica non ha mai avuto problemi a dormire nei boschi Il prefetto di Piacenza, Maurizio Falco conferma la possibilità che Massimo Sebastiani abbia resistito per otto giorni nei boschi ma vuole rassicurare la popolazione locale sul fatto che non è un soggetto di spessore criminale quindi non bisogna temerlo Quello che emerge dalle testimonianze della popolazione locale però è esattamente l'opposto Molti dicono Chi lo conosce lo descrive come un bravo ragazzo con dei valori ferrei e se proprio dovessi preoccuparmi di qualcosa mi preoccuperei del fatto che è così ben voluto che piuttosto di denunciarlo in caso di avvistamento alcuni potrebbero coprirlo Arriviamo al 2 settembre quando gli inquirenti giungono ad una conclusione Massimo Sebastiani è un soggetto pericoloso L'ultima traccia dell'uomo risale al 31 agosto quando una squadra di ricerca degli oltre 150 volontari impegnati nelle ricerche nella zona dei boschi del comune di Lugagnano localizzano un giaciglio di fogliame in località Rio Freddo di Veleia l'alcova improvvisata con strate di foglie utilizzata verosimilmente nelle 48 ore precedenti al ritrovamento è fiutata dai cani molecolari ed è considerata la prima traccia da domenica notte di Massimo Sebastiani Questa traccia porta alla conclusione che Massimo Sebastiani si stia muovendo nei boschi come un animale in fuga cercando ripari occasionali A questo punto c'è il cambio del titolo del reato del caso da sequestro di persona o omicidi o occultamento di cadavere quindi la procura ritiene opportuno ordinare ai volontari impegnati nelle ricerche di sospendere le loro attività Questa è una misura di sicurezza preventiva perché Massimo Sebastiani latitante da otto giorni potrebbe essere armato e in condizioni mentali alterate Nei giorni successivi vengono rinvenute delle tracce di cenere davanti al pollaio della casa di Massimo Sebastiani Quella è l'unica flebile traccia che potrebbe condurre ad un atto violento Anche se Mauro Pontini il legale nominato d'ufficio per la difesa di Massimo Sebastiani dice queste parole Al momento sebbene la procura abbia aperto un'inchiesta per omicidi o occultamento di cadavere non ci sono prove che Elisa sia stata uccisa In effetti non ci sono neanche prove che sia stata sequestrata che sia stata portata via contro la sua volontà Tutto quello che sappiamo è che Elisa e Massimo sono due persone scomparse e la priorità è trovarli Ad un certo punto arriva qualcosa all'attenzione degli inquirenti Ci sono due video registrati dalla telecamera di sorveglianza della ditta dove Massimo Sebastiani lavora che di base si trova a pochi passi da casa sua I video ritrarrebbero Massimo Sebastiani che entra in auto in casa con Elisa e ne esce poco dopo da solo Intanto gli esperti rilevano tracce biologiche riconducibili ad Elisa nell'auto di Massimo Sebastiani oppure di oggetti appartenenti a lei nel portabagagli della Honda Civic di Massimo Sebastiani dove presumibilmente la ragazza che era solita uscire con Massimo per le loro escursioni in campagna può aver lasciato una zaino una felpa o anche altri oggetti Nulla per il momento evidenzia un'azione delittuosa all'interno dell'auto Tutti si dicono sicuri che Massimo non farebbe mai del male ad una mosca e tantomeno ad Elisa che chiamava la sua ragazza e della quale era innamorato pazzo è proprio nel rifiuto di Elisa di un legame sentimentale più profondo dell'amicizia che gli inquirenti identificano un possibile movente dell'omicidio che ipotizzano Secondo l'ipotesi della procura l'uomo avrebbe ucciso Elisa lo stesso giorno in cui sono scomparsi domenica 25 agosto poco dopo le 14 Per essere più precisi gli inquirenti sono proprio convinti che Elisa sia stata uccisa tra le 14 e le 15 mentre Massimo viene ripreso da solo mentre fa rifornimento alla sua auto il 6 settembre a distanza di 12 giorni dalla scomparsa dei ragazzi vengono chiamati i cacciatori di Sardegna i cacciatori di Sardegna fanno parte del corpo dei carabinieri e sono specializzati nella ricerca di persone pericolose in posti impervi i carabinieri effettuano ispezioni mirate in cascine e casolari nei boschi tra Sariano e Gropparello in cerca del nascondiglio di Massimo Sebastiani ritenuto dalla procura l'assassino di Elisa Pomarelli di cui avrebbe, sempre secondo le ipotesi di indagine occultato il corpo arriviamo a sabato 7 settembre quando il corpo di Elisa Pomarelli viene ritrovato durante il sopralluogo delle forze dell'ordine in località Sariano a condurre i militari sul posto sono le indicazioni di Massimo Sebastiani catturato durante la mattina della stessa giornata l'uomo si nascondeva nel solaio di una cascina a costa Cerini di Sariano viene anche indagato per favoreggiamento l'amico a cui Massimo Sebastiani ha fatto visita il pomeriggio del 25 agosto a seguito della scomparsa di Elisa il corpo di Elisa viene localizzato grazie al contributo dei cacciatori di Sardegna in quanto era stato effettivamente interrato in una località impervia intanto nel corso della ricostruzione dei fatti resa agli inquirenti il 45enne avrebbe pianto e si sarebbe detto pentito Fabrizio Marrazzo portavoce del Gay Center dichiara Elisa Pomarelli è stata uccisa due volte come donna e come lesbica perché ha rifiutato il suo assassino il femminiletto premeditato è compiuto come atto punitivo per Elisa in quanto donna lesbica questo fatto dimostra quanto siamo indietro sui diritti delle donne e delle persone lesbiche gay e trans è importante che al più presto venga approvata una legge contro l'omofobia Didier Lezzano a me dice qualcosa Didier Lezzano andiamo avanti che prevede anche percorsi formativi e culturali dalla scuola primaria e nella società per abbattere il pregiudizio e la discriminazione contro le donne e le persone lesbiche gay e trans l'assassino dovrebbe essere condannato due volte e giudicato senza alcuna attenuante a fare un appello giunge anche il telefono rosa che dice Massimo Sebastiani ha orrendamente ucciso Elisa Pomarelli orrendamente per noi significa averla uccisa occultandone i poveri resti significa averla ammazzata con lucida premeditazione liberandosi del corpo e fuggendo eppure la maggior parte degli organi di informazione parla di raptus di un uomo che ha perso la testa di una persona innamorata fino alla follia non si ammazza per amore pensare che l'amore abbia fatto un'altra vittima è inaccettabile nel frattempo emerge che le telecamere di sorveglianza della ditta in cui lavorava Massimo vicino alla sua abitazione avrebbero effettivamente ripreso alcune fasi dell'aggressione mortale alla ventottenne Elisa non c'è quasi alcun dubbio ormai è chiaro che la giovane sia stata strangolata modalità che spiega anche l'assenza di tracce matiche sia sul luogo del ritrovamento del corpo che nel bagagliaio dell'auto dell'uomo il 9 settembre la sorella di Elisa Francesca Pomarelli dice nei confronti di Massimo Sebastiani adesso piange adesso è pentito ora piangi se fossi pentito accetteresti l'ergastolo senza giustificarti ahimè non hai ancora incrociato la mia strada ormai sei il mio incubo secondo la ricostruzione dei fatti Massimo avrebbe strangolato Elisa nel pollaio di casa sua a Campogrande di Carpaneto lo stesso giorno in cui è scomparsa domenica 25 agosto 2019 il movente in realtà è la decisione della ragazza di troncare quella frequentazione infatti Elisa quel pomeriggio dice chiaramente a Massimo che non sono più obbligati a vedersi così spesso anzi Elisa è ancora più chiara loro due sarebbero comunque rimasti amici lei però ha imparato ormai il mestiere dopo tre anni insomma sa come cavarsela da sola ed è a questo punto che Massimo perde la testa il punto è che Elisa come già vi ho detto è dichiaratamente omosessuale per lei la loro era una semplice amicizia mentre Massimo per Elisa aveva sviluppato un'autentica ossessione nata dall'improbabile illusione che lei potesse cambiare il suo interesse sentimentale o il suo orientamento sessuale a questo punto dalla vicenda di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli emerge che Massimo Sebastiani ha eliminato l'oggetto della sua ossessione quando quell'oggetto ha interrotto i rapporti quando insomma lei non poteva più dargli niente nemmeno la sua compagnia la sua presenza fisica il suo sguardo tutto quello che per lui alla fine dei conti era un surrogato di un rapporto amoroso il 10 settembre chiaramente gli interrogatori continuano ed emerge che Massimo Sebastiani avrebbe dormito per alcune notti accanto al corpo di Elisa senza vita poi l'avrebbe gettata in una scarpata in un bosco a Sanriano di Gropparello Silvio Perazzi l'amico di Massimo Sebastiani il suo ex suocero dice agli inquirenti che Massimo Sebastiani gli ha lasciato una lettera nella cassetta della posta ed ora vi leggo immediatamente questa lettera Massimo scrive siamo andati a pranzo insieme io ed Elisa poi abbiamo raggiunto casa mia abbiamo litigato nel pollaio Elisa si è allontanata e da quel momento io non l'ho più vista nella missiva quindi Massimo Sebastiani non ammette di aver ucciso Elisa non confessa ben si dice che la ragazza si è allontanata volontariamente e che lui non l'avrebbe più vista cosa non vera dopo la morte di Elisa Massimo Sebastiani manda ad Elisa due messaggi con il chiaro intento di crearsi un alibi l'operaio manda ad Elisa un messaggio di testo e un messaggio audio in cui la invita a farsi risentire sono quasi le 19 quando Massimo scrive ad Elisa Tati i listoni per la casetta li ho trovati scusa se mi sono arrabbiato ma mettiti nei miei panni e fatti sentire che dobbiamo costruire questa casetta di legno in effetti i titolari dell'osteria Il Lupo dove avevano pranzato insieme a Sariano del Grupparello si ricordano di Massimo che pagando prima di uscire aveva detto andiamo a costruire una bella casetta di legno quindi abbiamo capito che Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli vengono ripresi dalla videocamera della ditta si vedono tranquillamente mentre entrano nel pollaio dopo pochi istanti la stessa telecamera riprende Massimo Sebastiani uscire dal pollaio con quello che sembra il corpo di Elisa tra le braccia sono da poco passate le 14 Elisa era entrata nel pollaio del casolare di Massimo Sebastiani per raccogliere una manciata di uova da regalare a sua sorella queste uova vengono ritrovate in una casseruola sul tavolaccio di legno del capannone finalmente a questo punto gli inquirenti riescono a fare una ricostruzione dei messaggi e degli spostamenti di Massimo Sebastiani il giorno 25 agosto 2019 alle 8.35 del 25 agosto 2019 Massimo Sebastiani scrive un primo messaggio ad Elisa dice buongiorno Tati io sto arando 12 12.30 sono da te Elisa non risponde intanto Massimo fa colazione con un caffè e un bicchiere di bianco in un bar di Castellarquato alla titolare dice che quel giorno lui voleva andare al mare con la sua fidanzata lei però non ha voluto alle 9.19 di fronte al silenzio di Elisa Massimo le rimanda lo stesso messaggio che le ha mandato alle 8.35 e a questo punto Elisa risponde sono le 9.24 e conferma l'appuntamento Massimo Sebastiani passa la mattinata ad arare i campi dove di solito lavora alle 12.12 entra dalle Rois Merlens a Piacenza e ne esce con alcuni listoni di legno alle 12.30 puntuale è da Elisa a Borgotrebbia dalle 13.12 alle 14.01 i due pranzano al ristorante Il Lupo che si trova Sariano di Gropparello che lasciano attorno alle 14.00 alle 14.08 la macchina di Massimo Sebastiani arriva alla sua abitazione di Campogrande di Carpaneto alle 14.11 i due entrano nel pollaio dall'ingresso della casa alle 14.31 l'unica a uscire dal pollaio è Massimo Sebastiani e comunque in questo pollaio entra ed esce più volte alle 14.32 circa Massimo Sebastiani esce dal pollaio con in braccio il corpo di Elisa senza vita alle 14.34 dal telefono di Elisa parte una videochiamata ad una sua amica nel tentativo di Massimo Sebastiani di spegnere il cellulare della ragazza che quindi per l'ultima volta aggancia la cella di Cadeo prima di essere gettato in mezzo ai campi a questo punto il corpo di Elisa è probabilmente già nel bagagliaio della Honda Civic di Massimo Sebastiani alle 14.47 Massimo fa rifornimento al distributore di benzina di Carpaneto alle 14.55 l'onda Civic di Massimo Sebastiani con lui alla guida raggiunge l'abitazione di Silvio Perazzi il suo ex suocero a costa Cerini di Sariano è a questo punto che Massimo potrebbe aver trasportato il corpo di Elisa nel bosco alle 16.28 Massimo torna a Carpaneto e alle 16.30 si ferma in un bar a Celleri alle 16.48 Massimo manda il primo messaggio su Whatsapp ad Elisa dopo la sua morte scambia dei messaggi anche con un'amica con cui uscirà a cena quella stessa sera poche ore prima di sparire per 12 giorni Massimo Sebastiani mette in atto alcune azioni di depistaggio alle 18.44 Massimo Sebastiani brucia un sacco chiaro a lato del pollaio alle 18.57 Massimo manda un secondo messaggio questa volta boccale ad Elisa alle 18.59 Massimo viene ripreso mentre si dirige in auto verso Sariano dove si vede con Silvio Perazzi in un locale ossia il suo ex suocero alle 19.45 Massimo si vede con la sua amica in una trattoria a Bigostano alle 21.15 circa Massimo e l'amica tornano a Carpaneto e si fermano a bere qualcosa alle 23.47 un testimone vede Massimo camminare a lato della strada a Sariano l'11 settembre Silvio Perazzi ossia l'ex suocero di Sebastiano esce dal carcere l'arresto dell'uomo rinchiuso nel carcere le novate di Piacenza così come Massimo è stato convalidato con obbligo di dimora significa che l'uomo non dovrà stare in cella ma sarà obbligato a non allontanarsi da casa senza l'autorizzazione del giudice il 12 settembre Massimo Sebastiani confessa il motivo del suo omicidio dice esattamente queste parole quando Elisa mi ha detto che forse non era più il caso di vederci così spesso mi è caduto il mondo addosso e ho pensato che il bene che diceva di volermi fosse finto e che in realtà non ci fosse mai stato questa decisione di Elisa secondo le sue parole lo avrebbero scosso così tanto a tal punto da annebbiargli la vista tanto che dice il pollaio era diventato improvvisamente buio e lungo il corpo ho sentito una scossa fisica un freddo totale stando a ciò che racconta Massimo Sebastiani difeso dall'avvocato Mauro Pontini che per lui ha chiesto una perizia psichiatrica avrebbe agito in stato di alterazione dopo il delitto tuttavia ha compiuto una serie di azioni lucide e razionali come fare il rifornimento al distributore consultare l'amico Silvio Perazzi e inviare ad Elisa dopo la sua morte ben due messaggi in cui si fingeva preoccupato per il suo silenzio queste sono azioni volte a depistare le indagini e a tutelare la propria posizione il suo racconto tuttavia prosegue sull'onda di questo stato di alterazione quindi dichiara sono tornato a trovarla Elisa con la speranza che fosse ancora viva mi sono diretto verso casa di Silvio Perazzi rifugiandomi in un boschetto poco lontano così da poter starle vicino andavo sempre a trovarla e per due notti ho dormito con lei dopo sono riuscito ad entrare in casa di Silvio e a nascondermi in mansarda dalla finestra vedevo luogo in cui si trovava Elisa e tutte le sere le dicevo buonanotte protetati come facevo prima via messaggio non mi rendevo conto era come se lei facesse ancora parte del mio mondo una volta pensando avesse sete le ho portato anche una bottiglietta d'acqua quando sono andato da lei mi sono accorto che il suo corpo stava cambiando così ho preso un badile e l'ho sepolta dicendole così stare più al caldo io comunque sono qua e ce ne andremo insieme credetemi avrei voluto uscidermi ma non ne ho avuto il coraggio nel frattempo emerge un'altra novità ossia Massimo Sebastiani a quanto pare ascoltava le mosse degli inquirenti con una radio che è stata trovata nell'abitazione di Silvio Perazzi a costa Sariano di Gropparello dove si è svolto un sopralluogo dei carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'operaio avrebbe passato la prima notte in un capanno con un lavandino all'interno della villa di Silvio Perazzi la seconda notte invece l'avrebbe trascorsa il canto al corpo di Elisa senza vita e dalla terza fino all'ultima notte si sarebbe invece trasferito nel solaio dell'abitazione di Silvio Perazzi quest'ultimo peraltro dice che non aveva la minima idea che Massimo si stesse nascondendo nel suo solaio il 45enne infatti racconta di essere entrato e uscito da una finestra senza che Silvio Perazzi se ne accorgesse l'11 novembre emerge che Elisa effettivamente si stava frequentando con un'altra ragazza c'è da dire che in realtà Elisa questa ragazza che stava frequentando e Massimo uscivano anche insieme qualche volta e talvolta si univa loro anche un'amica di Elisa di nome Diana che dice mi sono trovata a discutere da sola con lui in effetti mi è rimasta impressa una sua frase io le faccio fare le sue esperienze poi sono qui era convinto che terminate le esperienze con le donne Elisa sarebbe stata sua ma la ragazza non aveva messo in discussione il suo orientamento era innamorata di quella ragazza e voleva vivere quella relazione senza che Massimo rappresentasse un problema si apre la mattina del 4 agosto 2020 il processo a carico di Massimo Sebastiani imputato per aver ucciso la 28enne Elisa Pomarelli il sostituto procuratore Ornella Chicca decide di contestargli oltre all'omicidio volontario e alla distruzione di cadavere la circostanza aggravante della minorata difesa per aver approfittato di circostanze di luogo e di persona tali da ostacolare la difesa viene condannato a 20 anni di carcere le prime parole dopo la lettura della sentenza vengono pronunciate dalla sorella di Elisa Deborah che dice non è stata fatta giustizia non ho parole sono davvero delusa il procuratore grazie a Pradella aveva chiesto 24 anni di carcere per l'imputato la mamma di Elisa Maria Cristina dice per me meritava l'ergastolo era giusto chiedere quello non può esserci alternativa niente mi toglie il dolore il dolore c'è sempre però è giusto che paghi con l'ergastolo per quello che ha fatto per una persona che uccide non servono altri aggravanti mia figlia lo considerava un amico non ho mai avuto sentori che lui fosse violento per quel poco che lo conoscevo io mi fidavo non lo conoscevo a fondo certo ma ho sempre pensato fosse una brava persona lunedì 24 agosto 2020 si celebrano finalmente i funerali di Elisa Pomarelli le sequie si tengono alle 16 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi nel quartiere di Borgo Trebbia dove effettivamente abitava Elisa in concomitanza viene anche proclamato il lutto cittadino come esposto dall'ordinanza comunale dalle 15 e 30 le bandiere sugli edifici pubblici vengono esposte a mezz'asta mentre i titolari di attività commerciali sono invitati ad abbassare le saracinesche in segno di lutto dalle 16 alle 17 ora vorrei un attimo parlarvi di come i giornali abbiano dato risalto alla storia di Elisa Pomarelli le notizie sottolineamolo anche se mi pare di sottolineare l'ovvio dovrebbero stare nel fatto che la violenza sulle donne è più che mai viva in Italia eppure anche in questo caso si è preferito mettere da parte la figura della vittima concentrandosi su quella del carnefice Massimo Sebastiani restituendoci un racconto volto in fin dei conti a farci empatizzare con quest'uomo inizialmente i giornali parlano di un raptus di un uomo distrutto e in lacrime che avrebbe fatto una stupidata e la stupidata sta nell'aver ucciso una donna alla faccia della stupidata i giornali parlano di Massimo Sebastiani appellandolo come il gigante buono che di fronte agli innumerevoli rifiuti della donna avrebbe perso il controllo di un amore troppo grande al punto da diventare ingestibile peccato che la storia è ben diversa da come è stata raccontata di fronte a questa mistificazione dei fatti il presidente dell'ordine dei giornalisti Carlo Verna alza la voce sottolineando come sia inaccettabile l'incultura della superficialità nel trattare anche nella scelta dei termini case di figlio i sindacati della stampa hanno affermato che il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso e in uno sfruttamento ai fini commerciali per qualche copia o click in più la motivazione per cui diverse testate hanno raccontato la storia con il taglio sbagliato sta in effetti mi due aledirlo nella retratezza culturale di alcuni giornalisti italiani su un tema così delicato come quello della violenza di genere ma anche delle logiche del clickbaiting per quanto riguarda il primo punto anni di corsi volti a sensibilizzare gli addetti del settore sullo storytelling dei crimini d'odio sembrano non aver portato i loro frutti è importante credo sottolineare che in Italia tra l'estate del 2017 e l'estate del 2018 ci sono stati 120 fatti eppure si procede con questa narrazione fatta di scatti di ira di amori non corrisposti e via dicendo che mi duele dirlo di fatto sono il riflesso di una società patriarcale di cui facciamo parte detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento voi conoscevate la storia di Elisa Pomarelli fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non fate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.